Siamo qui presso la sede del corso di laurea in Tecnologia della Nutrizione dell'Università di Camerino e il corso di laurea è direttamente coinvolto nell'organizzazione del Nutrimente Festival quindi abbiamo partecipato all'organizzazione soprattutto dei contenuti scientifici e ospitiamo gran parte di quelle che sono le attività organizzate dal Nutrimente. Oggi qui abbiamo una serie di laboratori dedicati alle scuole, le scuole soprattutto di secondo grado e nel pomeriggio avremo degli stand invece che sono aperti al pubblico. Più in serata un evento conclusivo che riguarda la presentazione di un libro molto interessante su quelle che sono le tematiche sempre legate alla nutrizione e quindi in questo caso ci sarà l'occasione di confrontarci su alcuni aspetti che come corso di laurea seguiamo direttamente e che riteniamo molto importanti. Ricordiamo l'autrice del libro che mi sembra che è una che si è laureata qui addirittura. Allora, l'autrice del libro è la dottoressa Giulia Biondi, biologa nutrizionista, laureata presso il nostro corso di laurea, quindi esattamente qui nella sede di San Benedetto e dialogherà con me che sono invece il coordinatore del corso di laurea e abbiamo già la traduzione quindi abbiamo modo di confrontarci su questi aspetti.